Innanzitutto invito sul palco il dottor Guido Dubaldo che è segretario nazionale d'ordine giornalisti, nonché capo servizio del Corriere Aerosport, era impegnato in altre faccende precedenti, ma è riuscito a raggiungerci. Grazie. Insieme a me, insomma, è molto meglio di me modera questa tavola rotonda. Buonasera a tutti, scuso per il ritardo, oggi è una giornata un po' complessa anche perché poi finirà con un evento che ti ha impegnato molti colleghi che seguono lo sport, che seguono il calcio e anche ci doveva essere un dirigente dell'Ado, ma che oggi non c'è, era stato annunciato dall'avvocato, ma evidentemente è impegnato per questa partita. Sì, sono porto e servizio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, del quale sono segretario e sono stato coinvolto negli ultimi giorni per questo convegno, mi ha fatto molto piacere accettare questo invito perché secondo me questo è un tema molto importante, un tema che i giornalisti che si occupano di sport, di calcio, in particolare di calciopercato, dovrebbero approfondire, dovrebbero conoscere meglio le normative, per questo diceva l'avvocato quando ci siamo relazionati le prime volte che questo che è un corso formativo per gli avvocati poteva essere declinato anche per diventare un corso di formazione per i giornalisti, proprio per l'importanza della materia che tratta. Ho sentito gli interventi che ci sono stati finora e devo dire che mi ha colpito molto, anche perché è come al suo solito molto diretto l'intervento del Presidente Lotito, perché credo che il Presidente Lotito con tutte le sue a volte esuberanze va riconosciuto il fatto di essere stato un Presidente che si è che si è ribellato a certe cattive usanze che c'erano nel mondo del calciopercato. Lotito ha rinunciato a un grande giocatore come Pandev per seguire una linea di principio, mi sembra che abbia qualche problema anche per rinnovare il contratto di un altro giocatore importante in questo momento nella Lazio, però comunque mi sembra che abbia dato una linea che forse poi anche altre società hanno tenuto. Per cui credo che questo in qualche modo va tenuto presente. Poi questo fatto che il procuratore sportivo al momento non fa un corso, non c'è una missione a un albo, una volta c'era un esame adesso non c'è più, se è così se non credo lo sbaglio. E quindi questo secondo me è un tema da affrontare perché comunque il procuratore sportivo tocca degli argomenti molto molto importanti, molto delicati, tratta argomenti economici di vasta entità, per cui non può essere chiunque oggi, chiunque anche una persona semplicemente diplomata può fare il procuratore sportivo, questa invece è una professione che andrebbe regolamentata meglio, che dovrebbe essere regolamentato anche l'accesso meglio e soprattutto esprimere delle potenzialità perché ci sono tanti procuratori che fanno questo lavoro da tanti anni, ho conosciuto molto bene all'inizio il canale Giulio, così come l'avvocato Pasqualino, i decani, i pionieri di questo mestiere. Oggi c'è un mondo che anche chi fa il giornalista sportivo come me non è che lo conosce tutto, prima c'erano 7, 8, 10 procuratori sportivi di riferimento che poi dopo avevano dei collaboratori con i quali chi doveva fare il calcio mercato controllava tutte le trattative. Adesso c'è un mondo molto variegato con il quale è anche difficile rapportarsi per chi fa il giornalista sportivo. Allora a questo punto, grazie innanzitutto, io a questo punto, grazie innanzitutto, grazie innanzitutto, grazie innanzitutto, grazie